La commissione preposta all'assegnazione del sesto premio il minatore d'oro ha rotto il tradizionale schema. Assegnando il premio alla categoria del minatore e simbolicamente ai concittadini vattesi. La commissione preposta all'assegnazione del sesto premio il minatore d'oro ha rotto il tradizionale schema. La commissione preposta all'assegnazione del sesto premio il minatore d'oro ha rotto il tradizionale schema. Il corteo dell'autorità e cittadini si è mosso da piazza municipio fino a raggiungere piazza delle rimembranze dove le autorità hanno posato una corona dall'oro ai piedi del monumento dedicato al minatore. Al ritorno la cerimonia di presentazione della lapide. Il premio consiste in un basso rilievo ruggiato in blocco di pietra egiziana. L'artista Filippo Malice rappresenta in modo eloquente il sacrificio dei minatori. L'artista Filippo Malice rappresenta in modo eloquente. L'artista Filippo Malice rappresenta in modo eloquente. Grazie a tutti A concluso la cerimonia un ampio dibattito alla presenza delle massime autorità e del pubblico mottese Grazie a tutti